Lontani. Ci attenderanno giorni difficili, ma noi saremo forti. Un amore oltre la tempesta feroce di una guerra. Ogni volta che ti vedo, sento il cuore soppalzare. Il tempo si annulla e non esiste più il mio passato né il suo ricordo. Oltre le falsità e le invidie di corte. Il tenente Eminoff lascia cuori infranti dietro il suo cammino. La ragazza è l'ufficiale. Ti aspetterò. Domani in prima serata, una prima assoluta Canale 5.